Siamo ancora qui, Rosario Campagna di Pure Sport che fa una cosa bellissima, cioè porta in giro la gente su macchine che vanno a 290 km orari. Ci racconti un po' di Pure Sport? Certo, Pure Sport è nata da una passione che ho da sempre legata alle macchine da corsa. Diciamo che poi è diventato un business quando ho visto l'opportunità nell'acquistare le macchine di metterle a disposizione di un pubblico privato e di aziende proprio per il proprio piacere di guidare. Quindi macchine Gran Turismo ma ho letto anche Formula 3, Formula 3000 e Formula 1? Sì esattamente, diciamo che noi in realtà siamo partiti dallo scalino più alto, dal gradino più alto perché abbiamo iniziato a fare i corsi di pilotaggio con le Formula 1, poi abbiamo fatto i corsi di pilotaggio con le Formula 3 per poi passare alle GT. Adesso abbiamo la gamma completa. A Monza tra l'altro? Diciamo che il circuito che utilizziamo di più è senz'altro Monza ma non è l'unico. Fantastico, quindi uno può prendere, venire e guidare una macchina di questo tipo o anche una manoposto? Esattamente, ovviamente c'è un training, un briefing, ci sono tutta una serie di passi da fare però è una cosa che nell'arco di una giornata si può fare tranquillamente. Fantastico, non vedo l'ora di essere su una Ferrari. Grazie mille. A te, ciao. Ciao.